Ciao a tutti e bentornati sul canale, sto cercando lentamente di tornare ad una schedule settimanale piano piano ci sto riuscendo e oggi vi registro il video dei prodotti terminati e bocciati del periodo perché mi sono resa conto di averne veramente troppi questa straripante ma anche un'altra busta intera di prodotti terminati comincio subito da questa e cercherò di andare il più velocemente possibile perché i prodotti sono veramente tanti e per prima cosa vi faccio vedere il mio struccante preferito ma ve l'ho già fatto vedere un milione di volte nei video dei prodotti terminati ed è questo qui bifasico della Garnier che dire mi piace tanto, continuo a ricomprarlo a volte lo trovo a prezzo un po' troppo alto quindi di solito aspetto che il prezzo si abbassa anche tipo su Amazon e poi lo compro altro super preferito è questa cipria della Essence stra mega famosa letteralmente chi è che non ha mai provato questa cipria? io la continuo a ricomprare, mi piace un sacco, è super leggera, fissa bene, non altra il colore del fondotinta io ho la pelle secca quindi magari tenetene a mente se magari avete la pelle grassa e volete un qualcosa di un pochino più forte ma questa secondo me è una buona via di mezzo per tutti i tipi di pelle ho poi terminato l'acido lattico di The Ordinary, anche questo prodotto è tipo la terza volta che lo ricompro infatti ce l'ho già in postazione è un prodotto che mi piace molto, aiuta comunque a smacchiare la pelle, a togliere le impurità, le macchiette post brufolo è uno di quei prodotti che per me, per il prezzo che ha, vale assolutamente la pena di essere acquistato altro prodotto che voglio promuovere ma che sicuramente non ricomprerò è questa crema di Madara che è un brand bio, molto molto buono, l'ho provato per la prima volta quando ancora vivevo in Italia e l'ho comprato anche qui in UK è una crema molto idratante ma allo stesso tempo leggera e non lo ricomprerò per il semplice fatto che secondo me non va benissimo per il mio tipo di pelle o meglio, questa crema mi piace un sacco ma secondo me è più estiva io ho la pelle molto secca, tenete conto quindi anche se c'è scritto per pelle molto secca, secondo me non è vero è più sul versante delle persone che hanno la pelle secca solo in inverno mentre io che ce l'ho secca tutto l'anno, questo è un prodotto che per me va bene purtroppo solo in estate mi è capitato uno dei prodotti che boccio ed è questa crema di Dr. Jart, la Sica Pair che ne ho sentito parlare un sacco bene ma a me non è piaciuta sembra per il discorso che forse non è adatta al mio tipo di pelle anche se c'è scritto che è una crema intensa, è praticamente un gel e quindi secondo me o va bene a persone molto giovani oppure a persone che hanno magari la pelle grassa persone con la pelle grassa forse potrebbero trovarla intensa però per me con la pelle secca no, non andava bene invece la linea quella gialla mi piace tantissimo e sempre sulla scia di quel prodotto vi devo purtroppo bocciare anche quest'altro sempre di Sica Pair questo è il siero, devo dire che il siero mi è piaciuto più della maschera intensiva perché secondo me un siero è bene che sia leggero però per quello che costa questo siero in full size secondo me si può trovare molto di meglio poi terminato uno smalto della Essence e questo è uno di quei top coat per indurire l'unghia non mi è dispiaciuto ma personalmente col fatto che faccio un sacco di faccende dentro casa ho sempre le mani in mezzo all'acqua quindi le unghie mi tendono a sfaldarsi molto facilmente questo prodotto non è sufficiente però se magari voi non fate tutte queste cose in casa come me secondo me può andar bene non so se saranno gli unici che troverò ma ho terminato due di questi burro cacao ve li faccio vedere da vicino e sono questi qui io li ho comprati su Amazon sono 100% biologici e molto nutrienti sono un po' ispirati ai famosi Barsby's però non hanno ovviamente tutte le profumazioni che hanno i Barsby's però devo dire che questo secondo me sono una buona alternativa più economica e per rimanere in tema labbra ho terminato anche un Barsby's ne avevo comprato un kit con diverse profumazioni questa qui è quella che personalmente mi è piaciuta di meno sono dei buon burro cacao senza infamia e senza lode a mio avviso non sono così tanto idratanti come vengono reclamizzati però diciamo costano poco e fanno discretamente il loro lavoro questo purtroppo non è un prodotto terminato e neanche bocciato a dire il vero però è qui perché lo devo cestinare ed è questo rossettino della Essence vi faccio vedere il colore perché magari vi interessa e lo sto buttando per il semplice fatto che purtroppo ha cambiato odore e non lo so non ha un odore molto buono e il colore è questo qui è molto carino fa parte di quei rossetti che sono molto idratanti molto morbidi secondo me sono perfetti in colorazioni nude perché appunto c'è il rischio che vadano un po' in giro per il viso però questo mi è piaciuto molto e quindi ve lo volevo consigliare e arriviamo a un prodotto bocciatissimo ed è questo shampoo di questo brand che si chiama Fate in Nature che però non so se si trova in Italia io personalmente qui lo trovo un pochino ovunque sia nei supermercati che in quelli biologici che anche su Amazon e questo è uno shampoo alte verde e limone per capelli normali e grassi allora io ho i capelli secchi ma ho la cute grassa quindi solitamente io lavo soltanto la cute proprio perché non c'è poi tanto bisogno di lavare le punte se non mettere lacche prodotti del genere ma questo prodotto mi ha fatto uscire la forfora quindi personalmente è troppo 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 aggressivo e non ve lo consiglio non registro questo video da talmente tanto che alcuni prodotti me li sono anche dimenticati di averli usati come ad esempio questo siero di Dottor Organic che io personalmente non mi ricordo molto al riguardo credo che fosse il classico prodotto senza infami e senza lode per quel che mi ricordo vagamente perché effettivamente questo qui credo di averlo consumato tipo tre mesi fa o giù di lì e quindi già per questo vi dico già che non è un promosso perché se un prodotto non ve lo ricordate dopo soli tre mesi vuol dire che fondamentalmente non era così buono altro prodotto la mia matita sopracciglia preferita di Nabla questa è nel colore Neptune ma credo di avervi detto che ne uso due diverse in base al colore delle mie sopracciglia in quel momento perché io a volte le schiarisco secondo me è la matita migliore a mine sottile per rapporto qualità prezzo e soprattutto se siete bionde fanno dei colori che sono veramente adatte alle bionde sono freddi non caldi aranciati altro preferito è questo eyeliner di Essence che ho subito ricomprato a me gli eyeliner di Essence piacciono un sacco li uso da tanti anni ho provato sia quelli costosi come quello di Chanel quelli in penna tipo di Kat Von D ma alla fine torno sempre a lui o comunque a uno di quelli di Essence perché costano pochissimo ma la resa è ottima e la prima borsina è andata passando alla seconda vi dico già che qui ci sono dei prodotti che sono integratori prodotti un pochino più particolari che però ci tenevo a menzionarvi perché secondo me possono essere interessanti ora non prendetemi per pazza ma a questo prodotto mi piace talmente tanto che non ne ho terminato uno neanche due e nemmeno tre ma ben quattro balsami labbra di Naturcan questo è in assoluto uno dei prodotti labbra migliori che abbia mai provato perché oltre a essere mega idratante molto più dei Barts Bees è anche leggermente ruvidino e quindi vi fa un leggero scrub sulle labbra che vi toglie tutte le pellicine quindi fa doppio lavoro sia di scrub che di burro cacao allo stesso tempo e quindi non solo vi fa risparmiare tantissimo tempo ma la qualità è anche molto molto alta personalmente io li amo altrimenti non ne avrei comprati quattro e sul sito ci sono sempre un sacco di scondi quindi magari iscrivetevi alla newsletter che vi arriva sicuramente uno sconto prima o poi e sicuramente li ricomprerò ancora perché mi piacciono troppo e non ho ancora trovato qualcuno che riesca a battere questa tipologia di prodotto e già che ci sono finisco di parlarvi dei prodotti che ho provato in Naturcan proprio perché rimaniamo in tema e ho terminato anche questa crema per il viso che ho comprato perché era mega scontata allora la crema non è male di per sé non è adatta alla mia tipologia di pelle più adatta secondo me a pelli normali miste grasse che non secca infatti io questa la utilizzavo principalmente al mattino quindi magari quando non avete bisogno di troppa troppa di idratazione e la formula mi piace molto perché si assorbe proprio iper mega veloce quindi magari se non avete molta pazienza di aspettare una crema che si asciughi questa è ottima l'unico problema ma il packaging fa schifo perché fa veramente cagare quindi vabbè per favore cambiate il packaging perché questo qui è veramente triste ma il prodotto è veramente molto molto buono soprattutto per il prezzo che ha natural can è un sito che vende principalmente prodotti a base di cbd quindi ho voluto provare anche qualcosa che non fosse relativo al beauty anche se tutti i prodotti che vi ho fatto vedere sono comunque a base di cbd quindi anche il burro cacao anche la crema viso ma appunto è un olio quindi essendo un olio è comunque molto idratante soltanto che ha molte altre proprietà oltre a quelle beauty e il primo prodotto che vi faccio vedere che ho terminato è questo qui sono delle caramelle gommose a base di cbd e possono servire per tante cose diverse tipo mal di testa stress ansia aiutare a dormire hanno tantissimi effetti positivi sul corpo ovviamente dipende dalla vostra problematica io personalmente li prendevo per i dolori del ciclo che li ho sempre molto forti e devo dire che questo qui mi ha aiutato ma ne dovevo prendere un dosaggio doppio per sentire l'effetto quindi invece di prendere una caramella ne prendevo due ma per risolvere questo problema ho acquistato direttamente quello che ha il dosaggio doppio quindi in un certo senso adesso ne prendo una e sto a posto e già che c'ero ho provato anche il burro da arachidi che vi faccio vedere proprio giusto perché siamo in tema e questo qui è molto molto buono se siete a dieta questo è un'ottima alternativa perché non ha zuccheri aggiunti ha soltanto ingredienti di altissima qualità è anche molto molto buono è un po' rigido da stendere però a me personalmente mi è piaciuto e anche qui c'è un po' di CBD quindi se magari avete il CBD all'interno della vostra alimentazione o comunque del vostro stile di vita questo è un modo facile per inserirne un quantitativo minimo all'interno della vostra giornata se magari ne volete un pochino di più ho poi terminato ben due vasetti di Sugar Bear Hair come sapete questi sono i miei integratori preferiti per i capelli penso che siano tra i migliori in commercio sono i primi in assoluto ad aver lanciato i gummies praticamente le caramelle gommose sotto forma di vitamine e mi piacciono molto questi mi erano stati inviati dall'azienda ma continuano a piacermi io continuo a utilizzarli solo che adesso ho terminato i miei tre mesi di ciclo per i capelli quindi farò una pausa da loro e riprenderò con il multivitaminico mi hanno poi inviato anche questa novità che sono sempre orsetti gommosi ma al collagene sto in questo momento terminando il secondo barattolo se non erro si credo sia il secondo e devo dire che secondo me la mia pelle appare più rimpolpata non so voi come mi vedete negli ultimi mesi ma secondo me è più rimpolpata è un po' più bella ed è un po' più luminosa secondo me quindi a mio avviso effetto lo fanno ma vi saprò dire meglio dopo che avrò terminato i tre mesi e ultimi due prodotti uno me lo sono portato dall'Italia ma ve lo boccio perché ce ne sono molti altri migliori di questo brand ed è questa lozione corpo di Caloderma e questa qui vi lascia un leggero strato tipo iridescente non proprio glitter però ci siamo capiti e allora mi piace molto tutta la linea Caloderma ma questo è il prodotto che mi piace di meno quindi personalmente comprate la linea classica quella con il packaging beige che secondo me è la migliore in assoluto soprattutto se avete la pelle secca e ultimissimo prodotto vi faccio vedere questa crema mani di Neutrogena almeno qui la dicono così vabbè io l'ho sempre chiamata Neutrogena come tutti gli italiani ed è una crema mani molto molto idratante ma allo stesso tempo che si assorbe super velocemente quindi se siete alla ricerca di una crema che vi aiuti a mantenere le mani belle idratate non ve le unca particolarmente questa è assolutamente perfetta e ci siamo ho terminato anche questo video dei prodotti terminati ammetto che veramente ne avevo un sacco e non mi ero resa conto di quanti ne avessi accumulati quindi cercherò di fare questo video un pochino più spesso magari lo metterò come bonus insieme ai video soliti magari che farò cercherò di fare ogni settimana questo sarà un bonus per quando ho un po' di prodotti da farvi vedere fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che vi interessa particolarmente qualche prodotto particolare che voi avete terminato che vi è piaciuto molto perché io sono sempre pronta a comprare quello che voi mi consigliate e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao Grazie a tutti.